Buongiorno a tutti, noi siamo i TV Show, manca un elemento ma sta per arrivare, siamo felici di suonare qui in piazza Saronno, siamo un gruppo che fa cover di canzoni tv, spot pubblicitari, film e telefilm. Ci divertiamo, siamo in sei, siamo un gruppo di Varese nato da un annetto e mezzo, cantiamo nei bar, ai matrimoni, nelle piazze, dovunque ci chiamano, ci divertiamo, abbiamo un sacco di cambi d'abito e cerchiamo di coinvolgere la gente con noi facendo giochi piuttosto che tirandoli sul palco a ballare con noi, per cui speriamo di vedervi tutti. Siamo molto coinvolgenti, noi cerchiamo in qualche maniera sempre, anche grazie all'aiuto di tutti gli altri componenti, guarda che facce che abbiamo, esatto, basta guardare le facce che hanno, cerchiamo sempre di far divertire la gente e facciamo fare un tuffo nel passato suonando appunto le colonne sonore dei film, telefilm e spot pubblicitari, soprattutto degli anni 80, quelli che ci hanno fatto crescere, ecco. Tutto in salsa rock. Esatto, tutto in salsa rock, noi siamo i tv show. Allora, io sono Laura Zeolla e sono la cantante, poi abbiamo Angelo Cesarone al basso, Giuseppe De Angelis alla chitarra, Mattia Rossi alla batteria, Giuseppe in carbone, scusa, sono un po'... Giuseppe in carbone alla voce e manca Gianluca Ciurleo alla tastiera. Siamo i tv show. Ciao, 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 ciao.